Ciao a tutti ragazzi, qui è Federico06 e oggi siamo arrivati a un nuovo video. Se vi dà fastidio ve lo tolgo, perché qui è fatto apposta, però si sente comunque l'audio. Se una posta qui non si sente breve, perché è un'app che io attacco un filo che si attacca qui sotto e non so come o quale grida fisica ti produce, però... C'è un ruolo di qua, non vi ho lezzo, perché qui è proprio lezzo, perché è la parodia di GTA. È una parodia, è una mezza specie parodie, io la direi più come un'offesa, perché è un'offesa grave, 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 grave. Oh, come se... dai! Ecco questi che mi hanno con la webcam e farle. Dai, 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 nega. Non c'è niente. Eccolo qua. Ah, ah, gang, uo... Eh, tipo una cosa gang. Devo fare un gang insieme a me, sì, dai, dai. La grafica, questa, di un telefonino, diciamo che è discreta, non dico che è bella, però è discreta. Vabbè. No, mi si tolto. No, mi si tolto. Ma... Ecco. Che... Non è possibile. Tra i sto, si diventa bene, si diventa questo. Mi stacca il filo, mi stai. Non fa, non vi ho fatto finta che va a buttare. Ma, però, veramente... Veramente... Cioè, così non mi si diventa in volta, no? Parla a mio orecchio, non voglio da male. Ah, sì, è nuyoso. Oh, dai, mio orecchio. Non so che cosa significa, non ho mai giocato. No, non ha senso. Eh, ragazzi, ma... Mettino, scambù. Da, da, da... Ma non ha senso. Un po' più... Quanto sarà noioso questo video, mi spiace, ragazzi. Ma quello di morso, dai. Andiamo a fare un game, insieme a me? Sì, ma dai, ma che morti di fame. Dai, ma che mali anni, non ce l'abbiamo, eh? Dai, andiamo a fare un game, stai. Dai, ragazzi, tutti arrivati poveri, vedi quel telefono. Dai, diciamo che la grafica... Sì, voglio anche più che... Un attimo, io questa macchina è figa, ora. No, no, nessuno qui me la voglio. Ma che è? Ma non è un po' più da ricchi, eh? No, mi ha fatto schifo. La figa. So questo è più che sclererò come un cane, eh. Sì, sì, come un uomo che venga a prendere. Oh, no, tu scrivi, scrivi, mi sembra che è una bella rapina questa nata. Oh, senti, Vico. No, ma ancora non cazzotti. Voglio riscattare i soldi. Dai, muori. Non c'è, ma guarda, ma come è fatto male. Ma quello lì è il cortello, no! Ma quello lì è il cortello, non so, non so, perché è il giusto che io non lo posso vedere. Ehm, vabbè, 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 non ha senso. No, veramente, perché è cattivo, eh? No, è fredda! Anche se, ma almeno posso saltare. Cioè, bella texture, comunque. Complimenti. Cioè, qui, ma no, ma guarda. Ma, che? È molto sensibile il gioco, vedi. Ma, con un'altra arma, non so che bellezza. Ah, no, no, le pubblichità. Voglio un'arma, voglio. Grazie. Ti fa la telecamera. Eccola, andiamo. Però adesso non posso sbagliare. No, non la voglio, quell'arma, che è successo. Deve veramente interessarmi questo. No, 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 no. Ma corri, Cristo, corri. Guarda, in questione un attimo. Ma no, puoi fare il gangster per questa roba? Basta vedevo fare il perdente Oh bella Qui va di rubare un po' di questa Vediamo che è un modo Ah Io rubo No dai rubo la Come posso sentire Ah vedi No vabbè dai Che è un'emergenza in corso Come volete vedere Ti guardavo che vorrei ruba qualcos'altro Ma dove sono andato A fare vabbè Sì dai alla fine dei ragazzi Mettiamo questo gioco Non è che è tanto Ma in giro chi delle persone Come vedere Sì subito la cara No subito Vabbè Non mi scordo dove sono Questa più gente qua Oh Mi dispiace Ma sai Io sono famiglia di sparare No vabbè Due parole Devo scrivere Devo scrivere Una parola Devo vizziare Un'offesa Devo vizziare Questo Muori Ma sì Ma tutti con la pistola E vabbè Allora mi si mette pure io Io cosa so Con le mani Da perdona Manso Guarda Questo l'inglese lo sa Lo scrive è inglese Vediamo che lo sanno Allora ragazzi Il video Sarà molto lungo Non dico Lungo tipo 30 minuti Però là forse farò la live Della domenica Però non dico Sarà un video lunghissimo Sarà questo qua Sì più di 8 minuti sicuro Perché sono già passati 8 minuti Sono molto 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 Sì più di 8 minuti Come si fa Non devo Qualche parte Donde ci possa Di veramente Divertirsi Questo Questo Posso Che sia Veramente Così Veramente Sembra Un canale Dai Cosa vuoi Sembra Se non Mimmo con la gravità Cuccherullini Sì sì Lo ho detto Lo ho detto Bene E che è No Ma è fatto Come male È fatto Ok No Però Non c'è neanche un impegno Perché Non c'è Ah Vedo Belle macchine La Dai Io direi Diciamo Di rubarle Dai Ma perché Mi si comandero Solo Bello No Vabbè Sono andata via Da sola Dai Mi facciamo Menso Sassi Stava fallita Questa è la visuale Questa è la visuale Veramente Beh Incolente Questa è la visuale Vabbè no, è ingiocabile sto gioco comunque, è il GTA dei poveri, sì, è il GTA dei poveri perché è il GTA dei poveri, non puoi, no, ma forse quando giocherà un gioco, quando giocherà un gioco, quando giocherà un gioco, di nuovo il bacio e poi è lì, sì. E jucce, sì, è lì, è lì, è lì, non lo gioco, credo che è l'upper di nuovo la stagione.